autrice di naufra di senza volto dare un nome alle vittime del mediterraneo che vincitore del primo galileo 2019 per la divulgazione scientifica che è diventato anche un best seller internazionale e con noi il medico legale più famoso d'italia la dottoressa cristina catanio stavo cercando di aiutare buonasera allora io tenevo molto che tutti conoscessimo e potessimo incontrare la dottoressa catanio che è un anatomopatologa medico legale medico legale dirige il laboratorio antropologia forense dell'università di milano che tra l'altro sta per compiere 25 anni è una data importante e la dottoressa catanio si occupata di alcuni fatti di cronaca naturalmente famosi o sconosciuti ma soprattutto è la persona che si è adoperata per l'identificazione dei corpi dei migranti annegati al largo di lampedusa nel 2013 e nel 2015 ed è lei che ha trovato la famosa ormai pagella cucita nella tasca interna della giacca di un ragazzo del mali morto nel naufragio del 18 aprile 2015 che ha cambiato per alcuni lo sguardo su quanto stava avvenendo che ha commosso che ha commosso tutti quanti il papa per primo e quindi voglio dirle grazie ci tenevo molto che fosse qui lei ha scritto anche tra l'altro suo precedente libro che è diventato un best seller edito dal mio amico raffaello cortina naufraghi senza volto dare un nome alle vittime del mediterraneo insomma è un lavoro terribile per certi versi sì è un lavoro che diciamo che racconta di un'italia molto bella che unica ha cercato di dare un nome a queste persone diciamo che il lavoro è coordinato dall'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparsi quindi un piccolo ufficio del governo che a un certo punto solo in europa dice che qualcosa bisogna fare siamo di fronte al disastro di massa più grosso del secondo dopoguerra oltre metà di queste persone sono oltre 30 mila senza un'identità sappiamo che cosa vuol dire quanto importante dare un'identità e come noi corriamo perché è importante dare un'identità il primo comandamento del medico legale è importante dare un'identità per tutta una questione che centra con il rispetto dei morti della convinzione ginevra in qua ma è fondamentale per i vivi per la salute mentale di chi rimane immaginiamoci un padre che cerca il filo oltre che per tutti gli aspetti legali però oltre per gli aspetti legali amministrativi abbiamo visto orfani che senza certificato di morte di mamma e papà non possono fare ricongiungimenti con i loro familiari in europa diciamo la sepoltura è l'indice primario di civiltà civiltà e l'identità è qualche cosa che serve soprattutto per i vivi certo è un diritto dei per elaborare il lutto per piangere su una tomba senta ho detto di questa pagella che aveva molto colpito non so se esiste una foto di questa pagella se esiste una fotografia non credo perché noi siamo autorizzati soltanto non c'è la foto di marcox ecco la foto di marcox che la storia la vuole ricordare appena si la storia è una di tantissime storie qui stiamo parlando come diceva lei del naufragio del 18 aprile 2015 in cui morirono mille persone la metà di questi adolescenti questa è soltanto una di delle pagelle che chi ha scusi se ne trompo quando diciamo mille persone la metà adolescenti stiamo parlando di ragazzini che potrebbero essere davvero i nostri figli e cioè stiamo parlando di una cosa raccapricciante ed è questo che ci sono portano questi morti questi morti che sono molto più eloquenti dei vivi ci raccontano chi sono e in tasca avevano esattamente le stesse cose che adesso glielo chiederò che cosa hanno in tasca ma prima mi parli di questa pagella cioè lei noi stavamo facendo i resti come solito l'autopsia e l'esame dei vestiti avevamo imparato a toccare i vestiti perché si nascondono addosso tantissime cose per non che si bagnino che vadano perse e tagliando abbiamo sentito qualcosa aperto si è trovato questa pagella con i voti in francese il bilettino scolaire con i voti di fisica di matematica eccetera una pagella che per questo ragazzino significava il suo lasciapassare come dire io sono bravo sono uno che studia che si impegna e di tutto quello che poteva portare ha portato quel documento che secondo lui sarebbe stato il suo lasciapassare per far vedere che meritava di rimanere qui fra noi credo che un accusa così dura non ci potesse essere questi ragazzi nel 2015 quindi immaginiamoci quanto si parlava nel 2015 di minori stranieri non accompagnati di tutela dei minori viaggiavano abbiamo trovato gli scheletri nella sentina nella parte più bassa del barcone in orizzontale quindi questo vuol dire che partivano già stipati sotto le assi del pavimento quindi questi morti ci raccontano una storia secondo me molto importante che non va dimenticato senta autoressa naturalmente il discorso e mi rendo conto insomma difficile e non voglio indulgere nessuna particolare possa essere inutile però che insomma lei dice che da quello che si portano addosso si capisce chi sono no ecco che quali sono gli oggetti che trovate nelle tasche di queste persone per lo più allora intanto i vestiti sono quelli sti ragazzini hanno i vestiti con gli stemmi del barcellona del real madrid eccetera poi hanno gli auricolari gli spazzolini da denti documenti tessere per le biblioteche e tessere da donatore di sangue quindi sono forse hanno anche di più di quello che hanno i nostri ragazzi nelle loro tasche quindi è veramente loro sono noi e quindi anche loro hanno lo stesso diritto ad essere identificati quante se ne riescono a identificare è questo il problema molto grosso che noi per adesso ne abbiamo identificati una quarantina è un numero molto piccolo ma il leitmotiv era che non si possono identificare perché non sono come noi e quindi troppo difficile intanto loro hanno un senso del lutto diverso invece abbiamo dimostrato che oltre 300 parentesi sono già fatti avanti da mauritania senegal nell'europa a cercare i loro morti quindi insomma se l'europa dovrebbe incominciare a pensare o coordinare questa cosa perché l'italia ha dimostrato che si può fare lei fa un lavoro diciamo complicato devo dire se mi permette anche inusuale insomma anche strano insomma da come lei è nata questa questa è un medico legale ho sempre avuto la passione di ricostruire il passato da frammenti di cose dalla scuola scienza e questo mi ha portato a volerlo fare non soltanto iniziato avendo questa passione per l'archeologia a farlo per la giustizia l'hai lavorato anche sul corpo di sant'ambrogio a milano sì 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 abbiamo fatto questa ricognizione bellissima che ci ha tenuto impegnati un anno no molto interessante molto interessante anche che confronto fede scienza molto interessante che cosa che cosa ma la cosa interessante che a parte le caratteristiche di un occhio più basso uno più alto erano i martiri sepolti con lui gervaso e protaso che tutti pensavano fossero una sorta di invenzione no invece tutti esistevano e decapitate come diceva che fossero morti lui senza esce questo coraggioso libro tra poco che si chiama corpi scheletri e delitti edito da sempre da raffaello cortina fra poco e qui invece proprio è l'attività dell'abano e la storia degli anni di come siamo iniziati come laboratorio che cerca di studiare i resti ma anche i viventi ma soprattutto i resti per restituire un identità ma anche una storia di come sono morti eccetera e si parla degli anni 95 2000 di come quando facevano capolino queste famose discipline delle scienze forense anche tramite i telefilm bones eccetera in italia abbiamo incominciato ad applicare queste scienze nel mondo del crimine quindi la storia delle prime i primi episodi di come questa scienza è nata in nata in italia quanto a naufraghi senza volto detto prima che è diventato un best seller posso fare una domanda personale per salutarla le capita di pensare di sognare le vite di quelle persone che ha cercato appunto per esempio dopo una tragedia come un naufragio queste povere persone sempre sono la forza che ti spinge perché sono sempre con noi ci stiamo ancora lavorando ma è proprio questo che ti rivale questa la sensazione di dover rivendicare di andare avanti malgrado tutto grazie grazie finita grazie grazie a cristina